tra le figure certamente più affascinanti e misteriose del mondo animale rientra quella del lupo un quadrupede estremamente intelligente e capace il più delle volte tuttavia nel corso della storia degli anni associato ad accezioni prettamente negative di lui tra tutte la ferocia e il pericolo anche nell'iconografia dell'antico egitto il lupo rappresentava un qualcosa di completamente negativo rappresentava infatti il dio della guerra upuat conosciuto anche come dio ofois il cui nome significava proprio aprire la strada così come dovrebbe fare un bravo condottiero aprire la strada al suo esercito un po più aurea se così vogliamo dire invece l'iconografia e la simbologia del lupo nella mitologia greca per i greci il lupo era un animale sacro simbolo di purezza e di luce anche nelle fiabbe più classiche ne ricordiamo due in particolar modo capuccetto rosso oppure i tre porcellini nate tra il 1700 e il 1800 il lupo torna ad avere una concezione molto negativa e così anche per i nativi americani diverse decadi prima loro addirittura pensavano che di fatto il lupo rappresentasse le streghe che le streghe potessero trasformarsi nel lupo per distruggere le loro tribù fortunatamente ad oggi le cose sono cambiate come tutti sappiamo al lupo sono legate simbologie anche molto positive tra le quali il coraggio la forza la capacità di domare un gruppo ma tra tutte anche l'amore e la passione per la famiglia cosa che in pochi sanno forse è che è scientificamente provato infatti che il lupo scelga una compagna per la vita con la quale avere una prole alla quale poi rimarrà fedele per il resto dei suoi giorni benvenuti a bestiario pop da michele monina e lucia oggi è con noi herman meta ciao ciao a tutti ciao 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 allora abbiamo parlato di lupi ovviamente con te andavamo abbastanza sul come dire abbiamo voluto vincere facile abbiamo scoperto ho scoperto in realtà con un ritardo abbastanza vergognoso che i lupi di herman si chiamano lupi per una tua risposta cioè ha un in bocca al lupo risposto che corra con me con me a che punto della corsa sei partiamo subito così dai sono a un punto della corsa che non saprei in realtà perché sai poi non si smette mai no di di correre da questo punto di vista la strada immagino e spero che sia sì che sia ancora ancora molto lunga questo questo è un buon periodo sotto diversi punti di vista soprattutto perché arriva da da due anni molto difficili in realtà per me dal punto di vista proprio psicologico mentale ho avuto una sorta di così non dico di allontanamento nei confronti della della musica però ad un certo punto mi sono sentito un po tradito no ma proprio dalla musica ma da quello che immaginavo no della da come la da come la vivevo la musica da come poi sai non mi ero mai fermato veramente perché poi prima prima di di tirare fuori la testa nel nel 2016 comunque io facevo comunque musica sotto altre forme nel senso che facevo fatto l'autore per per tanti anni scrivendo tante canzoni per tanti cantanti hai lavorato anche in band cioè poi prima ancora esatto avevo avevo una band che insomma la fame di camilla e ancora prima ne avevo ancora un'altra chiamava quattro con cui c'è stato il mio esordio nel nel mondo dei professionisti diciamo così anche se non ci avevo tanto capito bene quindi diciamo c'è la corsa e prima c'è stata la rincorsa no nel senso che c'è stata una grandissima rincorsa e a volte ti ti stanchi di più a farla rincorsa piuttosto che la corsa in sé perché la rincorsa in quel caso non sapevo neanche dove dove mi avrebbe portato no e niente insomma diciamo che il covid non sono l'unica persona a cui questo è successo anzi è successo credo a tanti però a me ha creato dei dei grossi problemi nel senso con me stesso nei confronti della della musica ho passato penso più di un anno senza scrivere neanche una canzone che per te immagino che per me quantità un'era glaciale diciamo per me veramente sì c'è tipo davvero un un'era e considerando che scrivevo la media di una canzone a settimana in genere cavolo sì perché sono sempre stato molto metodico nella nella scrittura quindi un poco mandare in ufficio nel senso e ho sentito che tanti che scrive le canzoni in ufficio proprio ma guarda un ufficio va lì questo questo magari no un ufficio non l'ho affittato però insomma per me è sempre stato molto importante avere continuità nella scrittura anche perché la scrittura è una sorta di allenamento cioè è una sorta è un allenamento ti devi tenere allenato anche perché poi scrivendo io scrivendo poi vado a cantare le cose che che scrivo e quindi è anche un allenamento vocale e io praticamente per per poco più di un anno non ho scritto neanche una canzone ed è una cosa che ho vissuto molto molto male davvero molto male però poi ho capito che avrei dovuto scrivere ma non riuscivo a scrivere canzoni avevo un blocco diciamo che hai scritto qualcosa altro poi ne parleremo esatto poi di cosa sei andato a affrontare in maniera direi piuttosto sorprendente lo dice uno che per anni ha fatto il ghostwriter di tuoi colleghi però mai di questo tipo di solito scrivevo le autobiografie di alcuni me l'avevano chiesto di scriverla però immagino immagino non è mai stata non è mai stata non è mai stato un mio un mio desiderio quello di scrivere autobiografia ma quindi ti hai fatto l'ikikomori allora lucia che ha 21 anni fa parte di quella generazione che è stata ha impattato sul covid nell'adolescenza cioè nel momento in cui ti mangi il mondo e abbiamo sentito letto di molti che si sono semplicemente fisicamente rinchiusi dentro casa e come dire hanno in qualche modo delegato magari ai device ma forse manco a quelli i rapporti con l'esterno tu arrivavi al sei arrivato al covid dai tour nei palasporti insomma no nei palasporti no però ovunque sì ho fatto un paio di palasporti però era un crescendo no sì era una storia molto bella e ti sei chiuso in quel senso lì cioè hai in qualche modo staccato anche mi sono chiuso mi sono chiuso nella testa io e che è la cosa peggiore perché tu ti puoi anche ti puoi anche chiudere tu fisicamente ma magari rimanere attivo mentalmente io per esempio durante durante tutti i questi anni di musica non sono mai stato un grande animale sociale non sono mai uscito più di tanto ho frequentato i giri giusti o che ne so un po per attitudine anche un po per noia se vogliamo forse anche anche una certa dose di pigrizia del uscire tutte le sere cercare le situazioni le cosiddette giuste in cui in cui trovarsi insomma io per per attitudine non non l'ho mai amata questa cosa qui perché credo che richieda un talento che io non ho e perché non ho quel tipo di talento e richiede anche uno sforzo no e quindi sono sempre stato abbastanza isolato se vogliamo e però con l'isolamento l'ho sempre usato l'ho sempre usato scrivendo scrivendo e sempre scrivendo studio matto e disperatissimo così dicevo come diceva qualcun altro di più intelligente di me in questo caso e in questo caso è venuto il contrario cioè ho cominciato a ad uscire ad andare fuori è smesso però smesso di provare qualsiasi cosa cioè non provavo non provavo più attrazione nei confronti della musica non mi sentivo più attratto e avevo smesso anche di ascoltarla a cioè quindi proprio un rifiuto totale anche perché quelle poche volte in cui mi trovavo ad ascoltarla c'era una sorta di come dire prendeva il sopravvento il tecnicismo lasciavo da parte lasciavo da parte l'anima di quello che ascoltavano e mi concentravo sulla struttura sul corpo quindi sulla mera così fisiologia della musica o delle canzoni senza senza vedere senza vedere la chimica quella che poi volgramente noi chiamiamo anima quella cosa lì non non riuscivo più a intravederla però poi alla fine ho capito che non non aveva alcun senso questa questa cosa qui è e è nato questo questo lo dico per chi ci ascolta e basta e sto impugnando il corposissimo in realtà romanzo d'esordio di herman mette che si chiama domani è per sempre che dicevo prima in maniera sorprendente è un libro libro che detto così sembra come dire una ripetizione nel senso non è che hai detto va bene c'è un nome ne approfitto tiro fuori qualcosa ma no sei messo proprio a scrivere davvero mi sono messo a scrivere davvero perché sentivo questa esigenza cioè sai in genere in genere si scrive per per capitalizzare insomma almeno quelli che sono nella mia posizione io partivo dal nome per quello no esattamente io non non ho mai voluto fare quella cosa lì non credo nemmeno di avere insomma cose così interessanti della mia vita da raccontare o forse anche sì non lo so però a questo ci arriveremo perché in realtà ma io credo hai raccontato delle cose della tua vita ma sì sì importanti però sai cos'è michele quando tu tu lo sai questo lo sai meglio di me e dimmi se sei d'accordo con me per fare una buona autobiografia devi essere in grado di tradire almeno due o tre persone sì assolutamente raccontando delle cose che potrebbero ferire tanto ferirle no ma assolutamente io non sono disposto a mettere in piedi questo questo tradimento davvero è una cosa che non vorrei mai fare però guarda allora faccio una deviazione no stiamo chiacchierando quando dicevo credo hai detto credo di non avere cose interessanti ultimamente hai fatto due interventi televisivi come dire entrambi di forte impatto emotivo che l'hai fatto da jeppi e l'hai fatto alle iene entrando in qualche modo nella scena anche politica perché hai detto delle cose che hanno un peso perché partono da te quindi sono storie vere non è che hai semplicemente fatto un programma da jeppi hai focalizzato l'attenzione su siamo partiti da dai lupi e dal fatto nell'introduzione si raccontava appunto come il lupo sia oggetto di un pregiudizio perché viene considerato da tempo mistificazione però qua c'entra il paganesimo insomma ci sono tante ragioni sì sì ma quello è già stato detto nel 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 tuo intervento hai spostato l'attenzione ovviamente su su quella che è stata la tua storia che è la tua storia cioè cercando di come dire viviamo in un'epoca strana in cui lo dico proprio sinceramente io ero abbastanza convinto che questo tipo di argomenti non fossero più come dire necessari quelli che hai portato in televisione cioè non fosse più necessario sottolineare come contrapporre fazioni sia semplicemente un ma non si tratta non si tratta nemmeno di fazioni ecco le fazioni vengono create perché poi alla fine si tratterebbe di pensare chi è della fazione della vita chi è della fazione della morte cioè alla fine parliamo di quello siamo in questo caso credo che tutti quanti in maniera unanime possiamo dire che siamo che facciamo parte della prima fazione e non della seconda quando poi si arriva a strumentalizzare determinati accadimenti e allora stai vendendo un po l'anima al diavolo in qualche modo sai io ci sono passato non in quel modo ma ho anche rischiato di passarci in quel modo capito sì sì ma è stato una poi l'hai raccontato in realtà nel secondo intervento però poteva accadere poteva assolutamente accadere perché conosco delle persone persone anche a me vicine a cui questo è accaduto che si sono trovati su dei gommoni poi vicino alla riva sono stati buttati in acqua e ok ma sai uno lo può vedere da due punti di vista lo può vedere dal punto di vista della della legge è però si è entrato illegalmente sì è vero però preferisco entrare in un paese illegalmente che morire legalmente nel mio dall'altra parte certo perché però alla fine stiamo parlando di quello e anche lasciar morire legalmente perché no è quello che un po stanno provando a contrapporre io non so come sono andati i fatti però una cosa una cosa è sicura se uno chiede si potevano salvare quelle povere anime che si trovavano davanti alla costa di cutro sì si poteva fare si poteva fare adesso la catena dell'informazione la catena no del di una richiesta di intervento di insomma di mandare degli aiuti eccetera credo che sia una catena abbastanza lunga perché non è come chiamare il 118 dire qua mi fa male il petto e venite a prendermi perché potrei morire di infarto la stiamo parlando di un'altra cosa però qua te prima hai detto è una roba politica o comunque è stato un intervento politico non è stato un intervento politico poi va da sé che nell'epoca che noi viviamo ma anche in quelle precedenti ogni cosa poi diventa politica sì sì ma lo intendevo proprio nel senso più alto della parola politica cioè una cosa che riguarda tutti quanti ci riguarda tutti hai portato un'esperienza personale che poi ripeto nel passaggio successivo quello delle Iene hai dato uno sguardo ulteriore cioè hai praticamente chiuso un cerchio ho raccontato un po' anche brevemente perché poi i tempi televisivi sai bene insomma che sono abbastanza stretti quindi ho cercato di sintetizzare la storia in realtà è molto più lunga è molto più lunga molto più complessa però quello diciamo è stato un estratto di quello che è stato e mi ha fatto anche sorridere leggere ovviamente tantissimi commenti positivi però non mancano mai quelli che tentano di disumanizzare un evento attraverso l'utilizzo della parola legge però anche non parcheggiare in doppia fila dovrebbe far parte della stessa cosa come parcheggiare al luogo dei disabili come non raccomandare nipote, figlio quindi la meritocrazia insomma questa cosa soprattutto anche in Italia è estremamente accentuata quindi noi possiamo aprire un miliardo di file sono iperbolico però probabilmente ci avvicineremo a un numero simile in cui ci sono sempre due pesi e due misure cioè mi viene da dire che non è che la giustizia è uguale per tutti però è simile sì però guarda che secondo me a me la cosa che ha colpito ma ne parlavamo anche a casa visto che appunto poi con Lucia condivido anche la stessa casa l'aver spostato nel caso del monologo delle Iene l'accento sulla gentilezza quindi in qualche modo hai spuntato poi evidentemente non del tutto però avresti spuntato la spada che ti voleva fare perché hai concentrato l'attenzione su un aspetto come dire empatico cioè sul fatto che essere gentili con gli altri essere in qualche modo aperti a affidarsi a qualcun altro ha senso e infatti proprio per questo mi è interessato molto il discorso della fiducia perché tu appunto dicevi come tua madre sia stata proprio fiduciosa e secondo me è un argomento che manca molto di questi tempi soprattutto secondo me dopo il covid il fatto che tendiamo a fidarci meno delle altre persone cioè anche quando qualcuno fa un gesto in avanti verso di noi noi siamo sempre portati a ritrarci oppure a chiederci ma qual è lo scopo che c'è dietro? Beh è una cosa che ha a che fare molto secondo me allora facciamo un passo indietro la fiducia occidentale è un conto la fiducia nella nella parte quella che noi definiamo un po' il sud del mondo è un'altra cosa certo perché tutto dipende da quello che tu hai davanti dalle prospettive che tu hai io io credo che nel mondo in cui noi viviamo oggi quello che noi conosciamo abbastanza bene perché lo navighiamo tutti i giorni ci sono ci sono troppe cose che ci possono ferire e quasi nessuna che ci possa uccidere ok invece in un altro mondo in un'altra epoca è esattamente il contrario ci sono poche cose che ti possono ferire tantissime che ti possono uccidere ok e quando vivi in un mondo così in quella realtà e ti dicono guarda che sta per accaderti qualcosa di orrendo cioè che è quello che è successo a mia madre ok certo che era molto giovane tra l'altro quindi lei non si fidava veramente di nessuno perché io ho iniziato dicendo quella donna non si fidava di nessuno ed era la verità però era abbastanza verosimile che potesse accadere sì poi diciamo che è quasi l'unica alternativa possibile che hai cioè a questo punto è la disperazione che hai davanti esatto allora facciamo ancora un passo indietro parliamo non c'entra niente ma parliamo degli attacchi di panico ok allora parliamo degli attacchi di panico sembrerebbe disgiunto come argomento ma in realtà è anche abbastanza vicino sai la prima volta che ho avuto un attacco di panico poi io insomma ho cominciato ad averne tanti tra l'altro nell'anno più bello della mia vita che è stato il 2017 quindi me lo sono vissuto malissimo perché ero finalmente riuscito a fare qualcosa di grande con la musica ma me la stavo vivendo non male malissimo soffrivo tantissimo non volavo ero sempre non riuscivo neanche a prendere il treno ritornai in terapia perché c'ero già stato ma per altri motivi gestione della rabbia perché insomma da quando ero più giovane avevo un po' di di problemi con la gestione della rabbia ma poi ci sono ritornato perché non riuscivo a comprendere questa cosa allora il mio analista mi disse una cosa molto bella mi disse guarda pensa pensa di essere un uomo dell'antichità sei lì con la tua lancia in mano e sei nella boscaglia ad un certo punto un cespuglio si muove tu hai davanti a te due scelte la prima è andare lì e magari trovare un coniglio e quindi tu ti salvi non muori di fame la seconda è andare lì controllare magari c'è una tigra dei denti a sciabola e tu sei morto quindi il tuo corpo è pieno di adrenalina in quel momento o per scappare o per combattere ma è una tua scelta devi andare lì a controllare che cosa c'è quindi ecco nel momento in cui ti dicono qualcosa sta per accadere ma non solo quello quando vedi che la tua realtà è compromessa sotto tutti i punti di vista non si tratta più di fiducia perché sai le persone che ti possono fregare sono quelle di cui più ti fidi in linea di massima ma qua non stiamo parlando di quello stiamo parlando di una realtà completamente diversa cioè devo andare via di qua perché se non vado via di qua non ho un futuro e non soltanto io ma anche la mia famiglia c'è solo la tigre coi denti a sciabola là tu sai che non c'è il coniglio ho capito là c'è solo la tigre non ti puoi fidare però tu devi attraversare quella cosa perché non è un'alternativa perché sai che il coniglio non c'è quindi a casa da mangiare non lo porti ed è anche questa una metafora sai che c'è la tigre tu non l'hai vista ma tanto lo senti che c'è lo senti che c'è sì sì beh certo diciamo l'ambiente da cui tutto questo si muove indicava i dentoni a sciabola esatto della tigre esatto ma poi specificatamente in quel periodo era una cosa che avevamo tutti quanti visto accadere diverse volte ok l'avevamo avevamo visto persone scomparire da un giorno all'altro donne giovani soprattutto eccetera a volte anche a volte anche bambini ma insomma in maniera un po' diversa ma tantissime donne giovani e quindi sai non in quel caso era meglio non fidarsi ma chiudere gli occhi e compiere un passo che poco ha a che fare con la fiducia ha più a che fare con la disperazione la parola fiducia è è riduttivo no ma non c'entra tanto lì in quel contesto oggi quello che dicevi te si tendi a fidarti di meno oggi nei confronti delle persone quelle che incontri ogni giorno eccetera perché pensi sempre ok dove sta la fregatura a volte la fregatura c'è però in realtà per il mio per come sono io faccio un po' fatica a a non fidarmi sarebbe più facile però io ho sempre vissuto così tendo ad aprire a spalancare sempre le braccia e dire ok va bene io dico sempre va bene tendo a fidarmi sempre perché poi si rischio di prendermi qualche pugno o qualche schiaffo e mi sta bene se è quello il prezzo da pagare per ottenere degli abbracci capito sempre parliamo a livello metaforico quindi insomma io ho capito che stare che rimanere chiuso e trincerarmi dietro paure piuttosto che perché l'ho sperimentato sulla mia pelle è una cosa che a me personalmente non ha portato niente nel momento in cui ho iniziato ad aprirmi in maniera totale agli altri la mia vita è cambiata perché poi sono cambiato io è cambiato il mio modo di scrivere è cambiato tutto ho avuto delle fregature in più questo è vero fanno parte del pacchetto sì sì il pacchetto non c'è niente da fare ma quando prima dicevi che ti sei un po' allontanato dalla musica era quasi più per perfezionismo che hai detto mi ha ascoltavo più la parte tecnica che la canzone in sé no no non era per quello non era assolutamente per quello il mio era un un problema un problema di di diversa natura nel senso che non ecco ascoltando ascoltando musica o facendo musica io non mi sono mai sentito confuso su quello che stavo facendo invece da un certo punto in poi anzi ad un certo punto ho iniziato a sentirmi confuso a non comprendere quello che stavo facendo ma non dal punto di vista tecnico dal punto di vista emotivo e siccome non riuscivo mai a decodificare a parole la parte emotiva di quello che facevo e poi in seguito anche di quello che ascoltavo degli altri mi accadeva che nel momento in cui ascoltavo semplicemente musica per evitare di pensare a quella parte emotiva che non riuscivo a decodificare a decodificare mi concentravo sulla parte sulla parte tecnica e quindi senza ovviamente alla fine farci nulla perché non serviva assolutamente a niente da qui è nata l'idea di scrivere un libro che è un'altra scrittura chiaramente proprio perché c'ha altri codici immagino anche un altro impegno per sé madonna sì anche perché ripeto non è che hai scritto 70 cartelle che poi sono state stirate come a volte capita editorialmente hai scritto un romanzo che è un romanzo di formazione che quindi come dire si confronta anche non stava a te fare questo tipo di ragionamento ma con tanti altri romanzi di formazione che hanno fatto la storia della letteratura il libro è parte degli 80 scelti dagli amici della domenica per il premio strega il che significa che è stato decodificato come un libro importante da chi si occupa di letteratura mi ha sorpreso molto in realtà mi ha sorpreso molto perché sai è il primo romanzo che però l'hai fatto anche con un editore importante sì assolutamente con Elisabetta Sgarbi insomma c'è sempre stato un grande feeling io lei la conosco dal 2017 perché lei subito eravamo a Sanremo mi ricordo e già lì insomma parlammo e lei mi chiese di scrivere qualcosa mi disse scrivi quello che vuoi però mi piacerebbe avere qualcosa da parte tua però sai in quel momento io non ero presissimo dalla musica non volevo avere gli occhi più larghi dello stomaco insomma e quindi ho detto ok io ti ringrazio però non è il momento adesso perché ecco tornando al discorso di prima non volevo capitalizzare per forza volevo concentrarmi sulla musica insomma su quello che stavo raccogliendo dopo tantissimi anni di fatiche di ricorsa la famosa rincorsa di rincorsa esattamente e quindi io comunque in quell'anno in cui ero completamente sottoterra non è che non non avessi voglia di dire cose che non sapevo più come farlo era questo il vero problema sì sì ti eri messo in un angolo di Blair Witch Project guardare l'angolo scuro e non trovavo le mie parole e la musica che avevo nella testa non trovavo una via di fuga era come un'acqua sigillata in un cubo senza senza nessuno spazio senza uno spiraglio da cui uscire e ad un certo punto ho pensato di così di cambiare cubo di non stare di non stare di non stare più lì perché tanto non ne sarei uscito è un po' come quando c'hai una parola sulla punta della lingua e più ci pensi e meno riesci a dirlo solo che sta cosa mi durava da un anno ed era diventato veramente un incubo causandomi attacchi di panico apnee notturne ansie insomma incontrollate e anche anche parecchi accessi di ira ma come stesso sempre sì sì certo insomma ero diventato quindi per combattere quella che in letteratura si chiama la paura della pagina bianca no? cioè quando uno scrittore te hai iniziato a scrivere ho iniziato a scrivere e per tipo per le prime venti pagine ero felicissimo solo che dopo non sapevo più come andare avanti perché abituato alle canzoni avevi finito esatto mi sembrava di aver già concluso invece no il viaggio era soltanto all'inizio poi là ho cominciato a volermi un po' più bene perché il primo istinto è stato quello di dire ma sì ma non vale un cazzo ma cioè figurati non riesci a scrivere una canzone figurati se adesso riesci a fare un romanzo e mi trattavo sempre così mai a voce alta sempre a voce bassa e sempre sempre in silenzio come un centometrista che si dà delle saccagnate sui piedi prima di cominciare una gara praticamente un'ottima partenza una partenza partì con un'ora di ritardo mentre in nove secondi hanno già bruciato i centometri e come ti sei sbloccato dopo le prime pagine diciamo dopo le prime pagine mi sono sbloccato facendo viaggiare Kayan che è il personaggio principale che è il protagonista di questa storia facendolo viaggiare nella mia mente ho cominciato a pensare a questo romanzo come se fosse una lunghissima canzone senza sapere come si sarebbe svolta sapevo come iniziava e sapevo come si concludeva e sapevo che dopo un tot di misure sarebbe arrivato il primo ritornello e poi prima in realtà ci sarebbe stato il bridge poi il ritornello poi di nuovo la seconda strofa e così via e poi lo special è stato piuttosto lungo e ho cominciato a trattarlo così affrontandolo affrontando a piccole dosi perché io sapevo sapevo bene dove iniziava e dove finiva ma in mezzo c'era troppa nebbia però è stato un bel modo da uscire da una zona di comfort cioè comunque passare da scrivere una canzone a scrivere un romanzo beh insomma sì direi che tutto è stato tranne che confortevole esatto perché insomma è stato abbastanza complicato per me all'inizio poi una volta che ero già a metà del primo ritornello ho capito che era probabilmente la canzone la mia preferita fra quelle che che avevo scritto fino in quel momento e là poi da lì in poi ci ho messo molto poco poi in particolare questo libro mi ha portato via tanto tempo di studio perché è un romanzo storico quindi sì insomma la storia di Cayenne si va si va a a intrecciare con quella che possiamo definire anche la grande storia perché è la storia del insomma del dopoguerra parliamo della guerra fredda eccetera quindi lo sfondo quindi è una sorta di intra-istoria lo sfondo è abbastanza preciso quindi sì anche perché fai i conti col novecento voglio dire è una roba che è stato un secolo incredibile quindi poi anche un periodo storico a me particolarmente caro che è quello della seconda guerra mondiale caro non perché mi piaccia anzi è stato orribile però caro negli studi perché comunque quel periodo ha creato i presupposti per poi il periodo più strano che ci sia stato che il mondo abbia mai visto che è il periodo della guerra fredda sì esatto l'unico momento di apparente stallo che c'è stato dopo secoli di guerra stallo che abbiamo che abbiamo sfiorato per almeno due volte in cui sarebbe successo il pandemonio è stato un periodo veramente molto interessante dal punto di vista storico e quindi prima lo studiavo per piacere personale perché mi è sempre piaciuta la storia e poi dopo ho cominciato ho ripreso a studiarlo quindi l'ho studiato di nuovo da capo però con occhi diversi non soltanto con occhi diversi ma non con i miei occhi con gli occhi del protagonista del romanzo quindi anche andare a confrontare per esempio cartine di oggi quelle cartine vecchie tipo Berlino nel frattempo perché una parte della storia si svolge a Berlino Berlino nel frattempo è cambiata quindi ci sono dei luoghi che non esistono più che sono diventati altro quindi mi sono stampato in grande queste cartine vecchie nuove tipo su dei lucidi le mettevo sopra e quindi cercavo di hai fatto un po' quello che quando suoni immagino quando fai una canzone fai suoni esatto esatto c'è una ricerca costante sul suono solo che lì magari lo fai attraverso anche gli strumenti musicali che sicuramente ti aiutano poi te ci sei venuto nel mio studio lo sai ho una collezione di synth tastiere chitarre bassi eccetera eccetera quindi hai degli strumenti qua l'unico strumento è che devi studiare devi segnare cose devi puntare cose e devi in qualche modo fare un crossfade insomma incrociare le fonti e cercare di capire ho avuto una grande fortuna in realtà perché una mia carissima amica albanese che vive a Tirana lei si chiama Erca lei lavora lavora nel nel comune di Tirana e ha accesso a dei documenti storici ah quindi avevi una fonte sì perché poi la storia parte dall'Albania quindi nel momento in cui poi mi sono confrontato con lei lei mi ha mandato una serie di copie di questi documenti che erano quelli della polizia segreta delle spie quindi il modo in cui le persone venivano spiate eccetera catalogate poi anche per esempio dove si trovavano questi luoghi oppure banalmente ma come venivano torturati alcuni come andavano avanti gli interrogatori cioè come facevano a prenderli o come li spiavano cioè questi sono dettagli tecnici sì sì certo che tu devi studiare e li devi conoscere sai il 20 marzo è uscito in Germania in Svizzera in Austria e lì mi hanno chiesto insomma parlando così mi hanno mi hanno mi hanno chiesto come come avevo fatto a a scoprire delle cose insomma e come era cambiata l'Albania nel frattempo ho detto esattamente come è cambiata la Germania e come è cambiato in particolar modo Berlino anche loro lì hanno un grandissimo catalogo di informazioni con la Stasi figurati probabilmente lì era anche peggio perché erano di più avevano tipo una spia ogni probabilmente ogni 70 abitanti cioè che era una cosa una cosa ma sì praticamente l'organizzazione più grande quella della Stasi insomma dava lavoro a tutti poi è stato anche un po' il principio della fine dal punto di vista economico perché investivano troppo esatto troppo in spionaggio ma essere riconosciuto come scrittore adesso immagino e spero che la parte di blocco a parte di aver scritto un libro si sia sbloccata anche per la musica ho ripreso a scrivere tantissimo però adesso c'hai come dire due carriere tra le quali dividerti oppure questo è stato non mi ritengo uno scrittore non mi ritengo uno scrittore perché potresti anche non ritenerti moro però no sei moro poi fa biondo ho dei capelli bianchi quindi già comincio no vabbè ho fatto l'esempio sbagliato però insomma guarda ti dico non mi ritengo lo sei nel senso che sei stato la parte più difficile perché scrive libri è essere riconosciuto da chi è preposto a riconoscerti no perché è pieno di gente che scrive soprattutto narrativa questo è vero tu sei stato riconosciuto sei stato tradotto all'estero sei stato appunto preso attenzionato che è una parola brutta forse da Stasi appunto dagli amici della Domenica che seguono il premio Strega e quindi lo sei e hai detto prima la mia canzone più bella che magari era riferita a quel momento lì però voglio dire decisamente sei una canzone è una canzone bella e anche di successo cioè è stata però sai non basta una canzone a fare di te un cantautore non basta un libro a fare di te uno scrittore sei uscito bene dal io credo io credo che insomma probabilmente se arriverò al terzo al quarto allora potrò potrò anche pensare di me ma stai scrivendo anche narrativa allora te la dico ho iniziato ho iniziato il romanzo nuovo ho iniziato il romanzo nuovo non vedo l'ora di insomma di 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 incanalarlo nel percorso giusto perché nel frattempo sto devo ammetterlo mi sto concentrando di più sul disco nuovo parliamo di musica esatto sto scrivendo tante tante canzoni sto facendo tante cose ti sei sbloccato quello mi sono sbloccato alla grandissima e sto sto scrivendo tanto e sono molto felice delle cose che sto scrivendo non vedo l'ora è una domanda che non dovrei fare perché mi vanto spesso di fare interviste che non siano come dire convenzionali però in questo caso c'hai già in mente delle date cioè stai lavorando un disco e sai già quando lo inizierai a incidere tipo adesso non dico no sto già sto già incidendo sto già incidendo delle cose perché io comunque ho la fortuna di avere il mio studio quindi nel momento in cui scrivo una canzone e faccio tipo il provino non è un provino sì sì certo prima faccio una registrazione un po' così in modo tale da avere il pezzo per non scordartela no da poterlo ascoltare eccetera lo lascio lì per una settimana e vedo che cosa mi dice una settimana dopo perché poi mi devo liberare dell'entusiasmo del sai quello immediato no perché poi l'ultimo nato è sempre più bello no in realtà non è tipo le idee che uno c'ha di notte è bellissima la mattina però insomma un po' meno se mi dovessi basare sull'entusiasmo dell'ultima canzone scritta probabilmente dovrei stare a incidere in continuazione e poi lasciare da parte il 90% invece lascio lì una settimana e poi quando dentro di me l'idea o comunque quella canzone è cresciuta è un'idea che mi si è incollata addosso ancora di più allora la vado a incidere immediatamente perché comunque ho lo studio in casa in sostanza quindi faccio faccio tutto lì è abbastanza facile sto scrivendo veramente tanto ho tantissimi pezzi però non mi voglio fermare quindi in questo momento è il momento della scrittura dopo l'estate sicuramente pubblicherò qualcosa perché non essendo mai stato io un animale estivo dal punto di vista musicale fare un reggaeton ma figo non lo so neanche fare il reggaeton partirei dal giro di basso dovresti partire dalla ritmica la ritmica è abbastanza facile però poi devi scrivere qualcosa che abbia un senso io non sono capace invido tantissimo quelli che lo sanno fare madonna ma sì sono dei tormentoni pazzeschi ma io non sono bravo in quella cosa lì non è il tuo no proprio it's not my cup of tea direbbero con gli esterofidi ma noi che siamo italiani diciamo non è la mia tazza di te esatto e quindi e quindi così mi sembra insomma ho pensato che non mi sembrasse il massimo pubblicare una canzone per l'estate perché poi sappiamo bene che insomma le radio sono super intasate poi le canzoni ecco d'estate si cerca sempre quella leggerezza di un certo tipo di cui io non dispongo in grande quantità per attitudine per insomma per forse anche per scelta non lo so quindi penso che da è più autunnale da settembre ottobre sì io sono più autunnale inverno primavera d'estate poi la verità che d'estate non voglio lavorare cioè io d'estate voglio andare al mare voglio andare al mare perché sono molto estivo da questo punto di vista vado al mare faccio le mie nuotate faccio i miei giorni di apnea sei più da scoglio da scoglio perché noi siamo entrambi nati ad Ancona no infatti lo so Lucia è al 100% milanese perché sempre vissuta qui ci tiene molto però noi anche Ancona solo scoglio io sono da scoglio perché non mi piace non mi piace la spiaggia in quanto sulla spiaggia c'è troppo casino e poi quando c'è vento si solleva la sabbia che poi te la trovi ovunque quando arrivi a casa è un casino e poi devo dire che facendo io un po' di apnea i fondali con gli scogli sono molto più belli sono molto più interessanti quindi preferisco di gran lunga gli scogli quindi invece che cantare reggaeton d'estate vai a fare immersioni no vabbè ma non è che uno deve fare per forza reggaeton d'estate d'estate fanno tante cose anche insomma che non sono reggaeton però ecco io d'estate preferisco o andare in tour fare delle date che ho già fatto l'estate scorsa quindi senza pubblicare qualcosa di nuovo non è una cosa che ho voglia di fare quindi pubblicherò comincerò a pubblicare qualcosa dall'autunno magari un singolo e poi il disco insomma quindi ritornando alla domanda siamo in conclusione tornando alla domanda da cui ero partito diciamo a livello della corsa del lupo sei in un momento di adesso dopo grande energia dopo una caduta importante dopo una caduta importante dopo un momento molto buio sono riuscito ad accendere la luce ed è una luce che irradia tanto dentro di me mi sembra una grande notizia una grande risposta allora in bocca al lupo evviva il lupo evviva il lupo grazie ciao ciao